A preso il via il concorso video fotografico visioni sostenibili, il sistema delle infrastrutture e della logistica in relazione con l'ambiente. Il concorso è organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni residenti nelle quattro regioni obiettivo Convergenza, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L'iniziativa intende stimolare i partecipanti a ritrarre le dinamiche della logistica nel suo diretto rapporto con il territorio circostante, l'impatto ambientale fino al suo estremo artistico, Land Art. Ancora una volta l'immagine come strumento diretto e immediato per raccontare l'importanza della sostenibilità ambientale in relazione allo sviluppo delle infrastrutture e al sistema di movimentazione delle merci, con un'aggiunta in più la sezione video. Sullo stesso tema i giovani potranno partecipare al concorso realizzando un cortometraggio della durata non superiore ai 3 minuti. Tra tutte le opere pervenute verranno selezionate da una giuria altamente qualificata 5 fotografie e 5 video. Il primo classificato di ciascuna sezione si aggiudicherà un workshop di fotografie multimedia a New York del valore di 3.000 euro. Per gli altri selezionati i premi consistono in fotocamere digitali, attrezzature video del valore compreso tra 2.400 euro. Una selezione dei migliori corti e delle migliori fotografie sarà pubblicata sul catalogo multimediale del concorso. Per la partecipazione al concorso gli autori dovranno far pervenire via posta all'indirizzo PON Photo and Video Award 2013 Visioni Sostenibili, Via Ripa 1416 00198 Roma, entro e non oltre il 24 marzo 2013, una bussa contenente il modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti, la liberatoria per il soggetto fotografato, un cd o dvd con la fotografia o il video che intendono presentare al concorso. Tutte le informazioni in regolamento sono visionabili www.visionisostenibili.it